Una vittoria della democrazia e della partecipazione, così il Meetup Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle ha commentato la sentenza del TAR di Salerno che ha sospeso la delibera del Comune dello scorso 16 settembre con la quale si regolamentavano nel capologo gli istituti di partecipazione. Un regolamento che limitava il diritto di partecipazione ai residenti da almeno 5 anni. Un aspetto al centro del ricorso presentato dai 5 Stelle alla base poi della sentenza pubblicata dal Tribunale Amministrativo. L'azione più logica dovrebbe essere quella di riformulare questo regolamento ed eliminare la limitazione dei 5 anni di residenza per la partecipazione alla politica cittadina. Spero che non facciano ricorso al Consiglio di Stato perché significherebbe un'ulteriore azione contro i cittadini salernitani. A questo punto mi sento di fare una provocazione. Se il Comune intende limitare il diritto dei cittadini alla partecipazione a 5 anni di residenza a questo punto vada a ridurre anche quelli che sono i doveri dei cittadini ed elimini le tasse per i cittadini salernitani che non sono residenti a Salerno da almeno 5 anni. La sentenza è esecutiva, per cui la sentenza ha sottolineato che viene annullato il regolamento nella parte in cui noi abbiamo sollevato i 5 anni. Per cui oggi in virtù della sentenza sono automaticamente cassati i 5 anni richiesti. Per cui il regolamento esiste, funziona domani se qualcuno vuole fare richiesta di referendum basta che il residente a Salerno può firmare. Questo è il meccanismo che si è. Poi è chiaro che se il Consiglio Comunale vuole dare un senso della sua vitalità può anche prendere atto della sentenza e quindi ottempera a quanto detto dall'altare in maniera ancora più breve. Se no devono passare i termini perché la sentenza vada in giudicato ma nel frattempo è già esecutiva.